Musica Hello guys, Randy Rana here Benvenuti in questo primo video su Splinter Cell Blacklist Il nuovo Splinter Cell uscito da pochissimi giorni Su tutte le piattaforme, mi sembra anche su PlayStation questa volta Perché ero rimasto al conviction che era esclusiva a PC, Xbox 360 Questo mi sembra sia uscito anche per PlayStation 3 Non vorrei dire stronzate, ma comunque ci sta È molto, molto, molto figo guys Fatemi vedere solamente una cosa perché è la prima volta che lo avvio Questa è la primissimissimissima missione E voglio un attimo vedere solamente le impostazioni Perché le ho fatte ottimizzare tramite Nvidia Expirants Ma non sapevo se effettivamente era quello che avevo messo o meno Allora guys, ascoltatemi Questo gioco l'ho comprato su kingwin.it Trovate il link per il gioco in descrizione Guys, il gioco è uscito da 2-3 giorni e costa un cazzo Quindi andate tutti su kingwin Fatevi un giro perché soprattutto in questo periodo ci sono delle offerte mostruose E se non approfittate adesso per comprare un po' di giochi vari Davvero non ne approfittate mai più perché ci sono degli sconti pazzeschi Io non pensavo di trovarlo così poco già da subito Quindi sono davvero felice Perché il conviction mi era piaciuto molto E questo anche sono sicuro che mi piacerà un bel po' Quindi mi raccomando Su in descrizione il link a kingwin Andateci a cliccare tutti quanti Fatevi un giro E semmai comprate anche qualcosina Così vi divertite un po' Allora, ci ripariamo Allora, mira al prossimo ripare Premi spazio per muoverti Ok, questa cosa c'era anche nel vecchio Abbattimenti e uccisioni Ah, ok, c'era anche nel vecchio questa cosa Sì, va bene E... Usa l'eye per abbattimento corpo a corpo Ok, così Oh, che figata Eh, ragazzi, è un fish, è un fish La barra è carica Ah, ok, perfetto Usa l'eye per marchiare quei due Quindi, là, pa, pa, pa Perfetto Però sono troppo lontani Ok, quindi ci avviciniamo così E adesso guardate che figata Pam, pam Che figata Molto la Red Dead Redemption Sta cosa Però Ci sta Ecco, noto con Con piacere Che hanno mantenuto Quello che era Il La storia del Secondo Cioè del vecchio Del vecchio gioco Cioè il fatto di avere Le munizioni finite Per la pistola Non è Effettivamente una brutta cosa In realtà Intanto io qua Cerco di non farmi scoprire Brothers Quindi Vediamo di fare una cosa Piuttosto stiltz Eh, quindi Così era Giusto Perfetto Quindi tutti Annanna Ok Qua Tieni per un muto Per raccogliere il corpo Vi fatemi vedere Che cazzo posso fare Guardate che spettacolo Se voglio metterlo Qui Nascondi corpo Proprio Cioè Sì Proprio nascostissimo Allora aspettate Abbassiamoci con C Perfetto Andiamo avanti Allora spero si veda bene Perché È molto buio Ovviamente Ma essendo Un gioco Stilt Guys Non potete chiedermi Molto Allora Lasciamo Spegniamo sta luce E andiamo avanti Allora dobbiamo trovare Una flash drive Che Non c'è Recupero la flash drive Va bene Andiamo 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 Allora io questo L'avevo provato Solo solo L'inizio Perché volevo capire Un attimo Com'era il gioco In generis Ma Non l'ho finita Sono arrivato Più o meno qua E poi non l'ho finita Ah Cazzo Mi hanno visto Zitto Cazzo Oh Guys Per quanto Non ci hanno visto Per Per Uno sputo Proprio Andiamo di qua Ok Ovviamente Sempre con la pistolina Mirata Perché non si sa mai Questo che cazzo È un bagno Perfetto Poi io entro Senza guardare Mi sembra Perfetto Qua che cazzo c'è Una finestra Un'altra stanza Ok Perfetto Una televisione Wow che bel programma Wow brothers Wow 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 Allora Allora Vediamo un pochino Di non farci scoprire Se volessi scendere Q Ok 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 Perfetto Esattamente quello Che volevo fare Alt Marca bersaglio Ok Sali Control No non posso ucciderlo Cazzo Q Ok Sono tre Tre Ok 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 Ci dobbiamo mettere Tipo qua Mi sa E aspettare Di Che quello arrivi Eccolo lì Adesso Adesso se esce Potremmo Effettivamente Prenderlo e tirarlo giù Però non lo so Quindi Se esci Bro Vieni fuori Dai Non farmi attendere così Dai bro Vieni di qua Dai 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 Bello di papino Bello di papino Ok ci andiamo noi Ho capito Ci andiamo noi Ok Mettiamoci Contro il muro Fermo eh Alt Alt Vai Buona 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 Mi faccio prendere un sacco Da questo gioco Infatti Se notate Sono anche molto più in silenzio Perché Amo Io amo proprio i giochi stilt Ah ma potevo anche non fare Perché dovevo andare di qua Vaffanculo Perché non me l'avete detto Bro Perché non me l'avete detto Ah fermi tutti Ah 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 Aiuto Eh Tizio Bravo così Bravissimo Zitto zitto Noi andiamo Zitti zitti Noi ce ne andiamo così Uh AKS74 Uh Fermi eh Fermi Girati di là Vai di là Di là Zitto Bona 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 Mori 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 Bravissimo Bravissimo Andiamo brothers Andiamo Andiamo dritti Eh Io amo Amo proprio Amo i giochi stilt Sono i miei giochi preferiti Cazzo Uh Uh Sam 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 Questi scherzetti Che mi fai Altri Andiamo 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 Brothers Spegniamo la luce Tutututu Di qua Non c'è niente Allora Rispetto al vecchio Vabbè Sarà che comunque Sto giocando su pc Quindi Quindi gg a me Rispetto al vecchio Convinction La grafica è migliorata Un bel po' Il gameplay Mi sembra molto Molto simile Se devo dire la verità Però comunque A me il vecchio è piaciuto davvero molto E quindi questo qua Non può che Che piacermi Cioè Come dire È un giocone bro È un giocone Allora Quello sta a telefono Ok Quello è il tipo che dobbiamo liberare Io direi che possiamo Tu 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 Mamma mia Lo chiamavano la pistola Più Più veloce del WS Che cazzo è Ehi tu Ciao bro Ti piace stare qui Ti piace Vorresti che ti salvassi Davvero Invece no Ok Questo sembra un'altra cosa Sam Buono Vediamo un pochino Non so se saltarle o meno I filmati Non è lui bro Non è lui Vabbè Comunque Spero che il Che il gioco vi piaccia Fatemi sapere se ci volete una serie Brothers Mi raccomando Andate su Kinguin A dare una bella occhiata Al gioco Io penso che un altro paio di video Ce li farò Non so quando Non so come Non so perché Ma ce li farò Cosa stai facendo Sam Cosa cazzo fai Sam Se mai il prossimo Lo facciamo con la webcam Fatemi sapere Se non vi piacerebbe Splinter Cell E webcam Cioè sarebbe una cosa fichissima Ehm Bro Però io sto facendo un video Se tipo Il vostro video Durasse meno del mio Sarebbe qualcosa di bellissimo Ok Arrivano soldati Tanti soldati Dobbiamo scappare Yes brothers Scappiamo Giù Giù Ok Splinter Cell Di giorno Non è proprio il massimo Effettivamente Soprattutto per non farsi vedere Però che cazzo dobbiamo fare Come Ci arrangiamo Essendo Ubisoft Abbiamo anche la Il bellissimo motore Di movimenti La fisica Eccetera Che Si utilizza per Per cosa Come si chiama Per Assassin's Creed Che È una figata totale Guys Cioè Poter Giocare A tipo A Sprinter Cell A fare queste cose È a dir poco Bellissimo Allora Mori Perfetto E qua Rischio troppo Così Sali E vai giù Ok Ehm Entriamo lì Al volo No No Non qui Qui Perfetto Vediamo se riusciamo A A passarli Senza farci vedere Che cazzo di fine hanno fatto Sono esplosi bro Vabbè Andiamo via Andiamo via Come faccio Come faccio Oh vai di qua Bella È proprio Lo vedete Questo è Altair Versione 4.0 Dopo Connor Dopo Dopo Altair Dopo Ezio Dopo Connor C'è Sam Fisher Sam Fisher Che cazzo è Ah Interessanto Ok Ehm Che altre armi ho Giusto per sapere Allora Ho una mitraglietta Ok Col silenziatore Ovviamente Una pistola Col silenziatore Qualcos'altro Ehm Come ci arrivo Io lì Ma giusto per non volermi buttare Tipo Mh Poco visibile Poi io qua su Eh proprio Allora Dove cazzo possiamo andare bro Ehm Prima di tutto Se ti alzi Mi fai un favore No No Di qua Anche no Ok Perfetto Di qua Vediamo un po' Posso salire qua su Ah c'è Posso salire sul cavo Ok Cazzo il tipo è girato Fermati Sam Fermati Giù 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 Corri 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 Sam Corri Mettili sotto Ok Morto Perfetto Go 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 Possiamo andare Possiamo andare brothers Andiamo avanti Ma questo gioco mi eccita come non so che cosa Cazzo 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 Allora Dobbiamo farlo così Quello è troppo lontano Quello è decisamente troppo lontano Allora Quello no Allora Non so come dividermi per ucciderli Ok Questo l'abbiamo tolto così Forse questo era il modo migliore Adesso se riusciamo a avanzare lì Ce li facciamo tutti e tre Tu girati Girati Oh 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 ok Ok Attaccati con Q Cazzo Mi devo imparare bene Veloce 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 Ok Allora Vediamo un po' se riusciamo a killarne un paio così Ok Morite Uno e due Perfetto Andiamo Andiamo brothers C'è l'ultimo C'è l'ultimo Ricarichiamo Ricarichiamo Dove cazzo è l'ultimo Dove sei Eccolo lì No 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 Che cazzo fai Sam madonna Che cazzo fai E meno male che sei Sam Fisher Mica il primo arrivato sulla piazza Cioè Boh Vabbè Comunque È fichissimo questo gioco È lo stilt Lo stilt puro Lo stilt è qualcosa di epico Cioè Salta Salta un po' No 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 Girati Girati Ok No 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 Uh 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 Ok Qua ci era mancato pochissimissimissimo Vediamo di andare A 30 metri bro Mancano solo 30 metri Possiamo farcela Ecco Dovrei Vabbè Adesso sto giocando Alla difficoltà Mi sembra sia la difficoltà minima Sinceramente Perché non volevo impazzire Anche perché Devo prendere confidenza Con i comandi Ma Assolutamente Assolutamente Se il gioco mi prende così tanto Ci facciamo poi Con le parti tozze Ultra mega stilt Ehm Da Come cazzo faccio a salire Ah ok Così Ah quindi proprio Molto faigo Perfetto Ehm Ok Scendiamo Alt per marcare i bersagli Eh ma non ce ne sono Quelli di bersagli bro Possiamo scendere Q Ok Giù 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 Stai giù Stai giù Sam Stai giù Ah devo catturarlo quello Cazzo Allora Fermi Fermi tutti Vediamo di entrare Senza fare macelli Vari Eh Allora qua Apriamo Cazzo Qua cosa c'è Cosa c'è Qua c'è un bagno Townation Allora Vediamo se è l'unico Se è l'unico nel bagno Brothers Allora possiamo anche pensare Di catturarlo In maniera molto easy Easy to peasy Si Cattura Buona Mio Ta 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 Allora Dove dobbiamo andare Usciamo Ah Uh huh Ok E adesso Che cazzo devo fare Me ne vado Me ne vado Me ne vado Perfetto Rifornisciti Perfetto Apri Stai sempre dietro Le porte Dietro le pareti Ah ah Si Madonna 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 Spegniamo la luce Vieni qua Bro Vieni qua Bro Vieni qua Bella 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 Mio Mio Perfetto Mamma mia Sam Che cazzo sei Altro che Ressler C'è Sam Fisher Qui per voi Guys Sam Cazzo Fisher Allora Buttiamoci di qua E E E Dove cazzo Possiamo andare Di qua cosa c'è Qua è bloccata Quindi sti cazzi Oh cazzo Merda Mi hanno scoperto alla fine Perché non mi sono attaccato Perché premo E Quando E quest'altro Appunto Toh Mori Ecco Il problema è che adesso abbiamo Una merda di vita Una merda Proprio Mamma mia Mamma mia Sam Ti prego Non fare Non fare mai più Una cosa del genere Ok Mai più Ecco Questo Era proprio quello che volevo evitare Bro Ma purtroppo Che cazzo ci dovevo fare Devo ancora prendere la dimestichezza Con i comandi del gioco Ma poi lo sapete che mi piace Mettermi in mostra Lo sapete che È una cosa fichissima Ok Sam Però Se evitassi di scendere le scale Come un mongolo Dai bro Dai Dai bello del papino Dove cazzo stiamo andando? Ma di qua Dove cazzo andiamo? Apri Ok Ah c'è un po' di gente Mi dicevano Aspettate un po' Quanta gente c'è lì? Ce n'è uno lì Uno lì Il problema è che c'è quello che ci guarda No 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 Eccolo lì Porca puttana Lo sapevo che quello creava problemi Io Mannaggia a me Mannaggia Mannaggia Dove cazzo è il mio OMP Datemi l'OMP Eccolo Eccolo O almeno quello che sia Toh Crepa Ok questo non è proprio la Splinter Cell Però ci piace lo stesso E' molto figo Molto molto figo Ovviamente Sapete Tutti quanti Che è un gioco Anche multiplayer Coop soprattutto Ovviamente Solo Coop mi sa Non penso ci sia un multiplayer Competitivo Quindi arriveranno Absolutely Delle collaborazioni Con altri youtubers Eeeh Conoscete qualche youtuber Chi ha sto gioco Fatemi sapere Fatemi sapere Io so che ce l'hanno Sia Jumpy Che Murray Potrei provare a chiedere a loro Ma Cioè non li conosco molto bene Quindi Eeeh E' un Che cazzo è quello Secondo voi Un civile Oppure no Bah Ricarica un po' Lui riusciva a ricaricare Con una sola mano Brothers Che cazzo è Sei Ah ok Quindi GG Andiamo C'è un cane Cavolo Non devo Vero che non devo sparare al cane Perché non lo farei mai E invece si Porca puttana Spero solamente Che questo sia Sia una pistola A sonniferi Sinceramente Spero vivamente Che sia una pistola A sonniferi Perché non mi piace Sparare i cani Absolutely not Allora Corri 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 Sam Corri come se non ci fosse un domani Ah via Premi la rodella Per lanciare i gadget Che gadget Ah Ok tipo Che cazzo è Un sonar No non lo so bro Ho lanciato qualcosa Non so che cosa però Io là voglio andare Qui Eeeh Spero di non fare cazzate Qua sarebbe un problema Ma se ci scoprono Qua sarebbe un grosso 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 problema Quindi Vediamo di non fare Paltate E andiamo avanti Tranquilli Tranquilli Ci finiamo questa missione Se ci riesco Eeeh Insieme Proprio Facciamo il video Uber lungo Brothers Oh cazzo E chi l'aveva visto Quello Eeeh Entra Entra Bona Bona Giù 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 Chi cazzo ci ha visto No 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 Il cane no Porca Eva Oh brothers Zitti Zitti Oh Guarda Com'è nemico Come mi hai visto Cioè no davvero Io ho sparato Ok ho sparato Contro il Il cosa Contro il palo Ma tutti dovevi girare A casa mia Un tipo che senta un rumore Contro un palo Si gira contro il palo Mica va dall'altro lato A vedere che cazzo È successo Fermo Oh mamma mia La mira di renna Qualcosa di Devastante Allora Noi non so se dobbiamo andare di qua O dobbiamo entrare Ma io salgo Ah si può entrare anche da qui GG a me Ok Perfetto Giù Giù Dobbiamo entrare qua dentro Quindi Q E apri la porta Nessuno Vai dentro No no ho detto Ecco Dentro Apri qua Brothers La storia mi sa che se ne va un po' troppo per le lunghe Allora facciamo così La finiamo questa E nella prossima puntata Tanto abbiamo salvato Quindi possiamo Possiamo continuarla Nella prossima puntatona Io spengo la luce Non posso spegnerla Benissimo Quindi ci vediamo In un prossimo video Lasciate tanti bei mi piace Tanti bei commenti E mi raccomando Andate su Kinguin E se riuscite a prendere Splinter Cell Mi fa piacere Anche perché non costa molto E Visto che sto cercando qualcuno Con cui farlo in co-op Se lo comprate Possiamo anche farci Un video insieme O almeno una partita Tanto Sono sempre ben disposto Ad aiutare E farmi aiutare Durante le missioni Quindi Enjoy E che l'ernese con voi Bye bye Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.